Ecco a me, sono la serva del Signore, appena da me quello che hai detto. I giorni passano, il cuore di Maria freme, i pensieri come briciole di pane invadono la giovane età della promessa e l'accompagnano verso un sogno di immenso ardore. I fanciulli giocano, i figli crescono, il tempo passa.